Andrea Braga per MSC TV, che importanza ha essere ancora qui al quarto anno del festival della DSC? È un luogo dove i cattolici impegnati nel sociale, nel politico, nelle istituzioni, in tutti i corpi intermedi, possono dimostrare la validità del concetto teorico di corpo intermedio nella vita pratica di ciascuno di noi. Qual è il rapporto che c'è tra il festival e Sturzo? Sturzo è stato uno dei primi interpreti della Rerum Novarum, che come sappiamo è la base della dottrina sociale cristiana e cattolica. Interprete non soltanto dal punto di vista dell'apporto culturale, sociologico e filosofico, ma in quanto fu tra i primi a realizzare interventi nel sindacato, nella cooperazione, nel campo della pubblicistica, fu editore di moltissimi giornali, fu scrittore di testi teatrali e poi come uomo del governo locale, sindaco o prosindaco di Caltagirone, è tra i fondatori del Partito Popolare Italiano. Qual è secondo lei la svolta che può dare il festival al paese in un periodo di crisi nel quale siamo? Chiamare a raccolta le risorse umane di ispirazione cristiana presenti nel territorio e determinare quell'impegno di ciascuno di noi a cambiare la realtà attuale. E se può darci infine la sua impressione sul quarto festival della DSC? È sempre ricco di suggestioni, di argomenti e di sollecitazioni che ci consentono di andare a casa con tanti nuovi temi su cui riflettere. Grazie per le sue parole, un saluto da Andrea Braga per MSC TV.